Grazie a questo accordo tra la città di Terbo e Aeroporti di Roma, oggi siamo in uno dei posti nevralgici dell'aeroporto di scambio e quindi anche di grandissima visibilità. È un contesto internazionale che sicuramente porterà grandi vantaggi al nostro territorio, alla nostra città e quindi vi aspettiamo fiduciosi perché il trampolino di lancio degli aeroporti di Fiumicino non potrà essere altrimenti. Aeroporti di Roma è lieta di mettersi a disposizione del proprio territorio, un territorio inteso ovviamente in senso ampio visto che siamo il primo hub intercontinentale del paese e che quindi dà la possibilità con grande orgoglio anche al territorio della Tuscia, al comune di Viterbo, di rendersi più conoscibile da parte dei passeggeri che transitano qui agli arrivi. Lo facciamo con convinzione perché solo insieme si può uscire da questo periodo così difficile e solo insieme possiamo rilanciare le bellezze, la cultura, il turismo nel nostro territorio.